Ha preso il via da Viterbo la ventiduesima edizione della Coppa degli Etruschi, gara valida come quinta prova del campionato italiano regolarità autostoriche 2017. Molti dei protagonisti della serie erano chiamati a confermare le posizioni in classifica conquistate dopo le prime quattro gare. Fortin, attualmente in testa alla classifica, è vincitore a Rovereto e Mugello, Aliverti trionfatore ad inizio stagione a Sora e Francesco Di Pietra giunto davanti a tutti a Verona. Proprio il driver siciliano partiva con i favori del pronostico, forte del successo nell'edizione 2016 della gara laziale. La manifestazione, organizzata dalla scuderia Etruria, Historic Racing Club, ha visto i 40 equipaggi al via sfidarsi per otto ore lungo le strade della Truscia Viterbese, con l'arrivo dell'oscurità che ha messo a dura prova anche i regolaristi più esperti, impegnati nelle 71 prove in programma. A Viterbo non sono mancati i colpi di scena, tra i quali spicca il ritiro del leader del campionato, Fortin Pile, costretti da noie meccaniche alla loro Fiat 600 ad alzare bandiera bianca dopo la prova 21, mentre è stata lotta sul filo dei centesimi tra gli altri pretendenti alla vittoria finale. Al termine saranno solo sei le penalità tra il primo e il quarto classificato. Ad approfittare del passo falso del duo Bresciano sono stati Francesco e Giuseppe Di Pietra, che conquistano per il secondo anno consecutivo la Coppa degli Etruschi a bordo di una auto bianchi A112 con i colori della scuderia Cars di Avellino. Sul secondo gradino del podio a tre centesimi dai vincitori sale l'equipaggio delle Classic Team, composto da Massimo Zanasi e Barbara Bertini su Fiat 11103 del 1955, mentre il portabandiera della Franciacorta Motori Mario Passanante, navigato per l'occasione da Magda Oneto, deve accontentarsi ancora del terzo posto. E' andata bene perché abbiamo vinto, diciamo che avevamo iniziato questa gara, questo campionato tanto per mantenere la nostra performance nella classifica top driver. Abbiamo bissato un primo posto, quindi comincia a diventare interessante per noi il campionato italiano regolarità autostorica per la classifica assoluta. La nostra prestazione è stata eccellente nella prima metà della gara, abbiamo mantenuto una media molto bassa, sotto due centesimi di media. Nella classifica top car, nuovo successo di Fabio Loperfido sulla consueta Fiat Balilla del 1934, mentre conquistano punti preziosi per la Coppa delle Dame Gaetana Angino ed Enrico Russo su auto bianchi A112 del 1982. Tra le squadre sale ancora una volta sul gradino più alto del podio il Classic Team, che conquista la quinta vittoria su cinque gare, mentre Scuderia Kinzica e Scuderia Nettuno raccolgono preziosi punti in ottica campionato accorciando le distanze dalla bresciana Franciacorta motori. Solo due le vetture in gara tra le anteguerra. Alla fine saranno Fabio Loperfido e Alessandro Moretti a conquistare il primo raggruppamento davanti a Sergio Sisti navigato da Anna Gualandi a bordo di una lancia Aprilia del 1937, mentre Alessandro Alberighi, navigato da Stefania Lopresti, non ha avuto rivali nel quarto raggruppamento. L'equipaggio avellinese della Scuderia Cars, composto da Giuseppe Macario e Mariangela Preziosi, ha conquistato il raggruppamento 5 dopo un avvincente testa a testa con Donati Marzocchi, che hanno difeso i colori della Scuderia Biondetti con la Fulvia del 1971. Salvatore Cusumano ed Alberto Carrotta, rimasti ai piedi del podio assoluto per un solo centesimo, si consolano con la vittoria nel sesto raggruppamento con la fida Autobianchi a 112 del 1973. Nel raggruppamento 7, dietro ai vincitori della gara Di Pietra Di Pietra e ai secondi assoluti Passanante Oneto, conquista il terzo gradino del podio la driver toscana Barbara Zazzeri, navigata da Cristiano Androvandi su Renault 5 della Scuderia Chinsica, autrice di una gara in crescendo. È andata bene e poteva andare un pochino meglio, però ci stiamo facendo un po' di esperienza. È targato Alfa Romeo il podio dell'ottavo raggruppamento con Claudio Lastri e Walter Pantani, primi al traguardo con la loro Giulietta del 1982. Dopo cinque gare si fa incerta la lotta per la conquista del campionato italiano con il leader Pierluigi Fortin, che a causa del passo falso sulle strade Viterbesi vede diminuire il vantaggio in classifica generale su Massimo Zanasi, che si riduce a soli dieci punti. Francesco Di Pietra, grazie alla vittoria nella Coppa degli Etruschi, si pone tra i candidati alla conquista del titolo.